In collaborazione con Glam Vision e Ka Fakli Tramma in una stalla custosa nel veronese, la veterinaria trentina Chiara Santoli di Rovereto muore a 25 anni, schiacciata, uccisa da una vacca. Tragegia sul lavoro anche a Darco, un 56enne è precipitato da una decina di metri in un eredile, vani tempestivi interventi dei soccorritori, Mario Franzinelli è morto. Crisi climatica, tozzi, le Olimpiadi, deleghiamo a qualche altra nazione, dai lupi agli orci, dallo sci alla marmolada, riflessione a 360 gradi sul futuro della montagna. Esport più 7% in regione nei primi sei mesi del 22, spinto dalla mecatronica trentina, Cainelli, un anno record ma probabile flessione nel 2023. Decidi di persone hanno preso parte a Trento al corteo per ricordare i tirolesi trentini travolti dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale. I difetti visivi sono tanti, miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su GlamVision.it